Liverpool Torosa 5 a 1, il Liverpool vince contro il Torosa, questa partita di ieri, veramente 5 straordinari gol, una partita tutta a favore del Liverpool rispetto a Torosa, veramente il Liverpool ha dato ampio sfoggio di avere grandi capacità calcistiche, un full di gol, un tris più una coppia di gol, dovendo ragionare in termini di poker, pokeristici. A segnare dai Liverpool i 5 euro sono stati nell'ordine, Diogo Jota nel primo tempo, Guattaro Endo nel primo tempo, Darwin Nunez nel primo tempo, Ryan Gravenberg nel secondo tempo, ed infine, ma non per questo di milione importanza, Mohamed Salah nel secondo tempo. La risposta di Torosa, il Torosa arriva solo nel primo tempo, a firma di Thys, Dalinga, che la mette dentro, ripeto, nel primo tempo. Le statistiche tutte, ovviamente, a favore del Liverpool, più possesso di palla, più passaggi, molti più passaggi e una precisione di passaggi molto più elevata rispetto per l'appunto al Torosa. Bella partita, veramente, il Liverpool dimostra di avere grandi capacità atletiche, che mostra in piena belta. Bene, complimenti comunque al Liverpool, 5 a 1, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti. Ciao a tutti.